Dopo il nostro articolo sul caos che si stava verificando nel senese per chi aveva contratto il covid da oltre sei mesi, la ASL Toscana Sud-Est emana un comunicato stampa nel quale riferisce di stabilire le nuove procedure per la vaccinazione appunto delle persone che hanno contratto il covid. Da tre a sei mesi sarà sufficiente effettuare solo una dose di vaccino, per chi supera i sei mesi invece sarà necessaria la seconda dose. La ASL Toscana Sud-Est recita sempre il comunicato aveva previsto di effettuare le due dosi a chi avesse contratto l'infezione da almeno nove mesi aderendo ad un'interpretazione estensiva della circolare del 3 marzo 2021 del Ministero della Salute. La successiva introduzione della normativa per il rilascio del Green Pass che dopo i sei mesi dall'infezione rende necessaria la doppia dose ha determinato un divario tra le due indicazioni ed ecco dunque l'adeguamento alle nuove regole. Fino a qualche settimana fa le persone che avevano avuto l'infezione entro nove mesi precedenti ricevevano una sola dose. Poi si è visto che questo creava dei problemi nel rilascio del Green Pass e quindi per adeguarci a queste direttive nel rilascio del Green Pass è stato stabilito che chi ha avuto il covid oltre i sei mesi e non nove deve ricevere comunque due dosi di vaccino per poter avere la copertura necessaria a ottenere il Green Pass. Le persone che hanno già fatto la vaccinazione con una sola dose e che hanno avuto l'infezione da oltre sei mesi e che quindi non riescono ad accedere al Green Pass possono rivolgersi al nostro helpdesk all'indirizzo mail helpdesk.vaccinazioni.uslsudest.toscana.it per segnalare la loro situazione verranno richiamati per effettuare la seconda dose.